Un organismo fatto per la velocità come il suo non lascia molte possibilità all'avversario. Una femmina con tre bocche da sfamare e priva di riserve di grasso deve procurarsi carne fresca ogni giorno. Troppi inseguimenti non coronati da successo rappresentano un grave rischio di morte per denutrizione. E questo vale soprattutto per i cuccioli. Il momento più critico è quello che precede l'inizio della caccia, quando il ghepardo valuta la distanza dalla preda fino a cento metri e sceglie il bersaglio. Una gazzella di tozzo. L'inseguimento è una vera gara di velocità e destrezza, nella quale la gazzella cerca di salvarsi correndo a zigzag e cambiando bruscamente direzione. L'inseguimento è una vera gara. L'inseguimento è una vera gara. La fritta è un attimo è un attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.